Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video su Geo Master Duel, questa volta parliamo di un update, la banlist, che avverrà il 9 aprile. Vi ricordo ragazzi che le carte che poi vengono magari limitate, semilimitate o bannate, se voi potete scrappare le carte, quindi per avere dei CP, avrete dei CP ulteriori, ne avrete 20 in più. Quindi facciamo un esempio a caso, bannano una carta da semilimitata a limitata, la seconda copia eventualmente potete scrapparla per invece di 10 CP, valore base della carta normale, 30 CP, 20 in più. Poi ovviamente magari se ce l'avete foil o ce l'avete prismatica è un pochettino di più, ovviamente perché di base è già di più. Però comunque non avete perso tutto il dolore della carta. Questo qua è un cambiamento che appunto avverrà, come potete vedere, il 9 aprile. Adesso andiamo a vedere che cosa cambierà, perché tra breve arriverà un paccone che distruggerà il gioco. Spero che limiteranno, inizieranno già a fare delle cose prima, che arrivino le nuove carte, delle tira elementi soprattutto, però vedremo. Comunque sarà un update che cambierà il metodo un'altra volta, così come quando sono arrivati gli sprite. Allora, questa andiamo a poco a poco. Ho già controllato ancora qualche cosina, ma parliamo a poco a poco delle carte varie. Allora, carte che verranno illimitate, o che... sì, perché verranno illimitate? Quindi carte che prima erano limitate, se illimitate o bannate. In questo caso abbiamo Altergeist Multifaker. Multifaker è una carta appunto per gli Altergeist, è praticamente il mostro più utile, più necessario per far girare il mazzo. Poi ovviamente ci sono anche altri utili, anche carte trappola, perché la maggior parte di questo mazzo si basta sull'utilizzo di carte trappola, Altergeist e non. E devo dire che ci sta, secondo me comunque gli Altergeist sono un mazzo control piuttosto carino. Comunque fortunatamente non viene visto troppissimo, non rompa molto le scatole. E comunque secondo me vale la pena. Di per sé non mi dispiacciono gli Altergeist come mazzo control. È già lento di suo, non dice comunque già la sua di suo, probabilmente non forse l'avete manco mai visto in ladder. Ci sta, semplicemente vedere Altergeist Multifaker a 3. Non sarà un problema assolutamente. Andiamo avanti. Soul Hitting of the Raptor. Ovi Raptor è una carta che si utilizza nei mazzi dinosauri, generale, dove per l'appunto lui è buono perché dice se viene evocato lo momento specialmente prendi un dinosauro dal tuo deck e aggiungi la tua mano o mandalo al cimitero. Poi puoi targettare un altro dinosauro di livello 4 inferiore sul terreno, distruggilo, evoca specialmente un dinosauro dal cimitero. Tutti e due gli effetti una volta per turno, messi una volta per turno. Ed è buono perché per l'appunto lui per la maggior parte, adesso non mi ricordo come si chiamava, si utilizza con Baby, eccolo qua, con Baby Serasaurus, che ovviamente quando viene distrutto dall'effetto di una carta e mandato al cimitero è specialmente un mostro di livello 4 dinosauro dal tuo mazzo. Quindi fanno un sacco di cose e non è neanche una volta per turno lui. Si pop the baby praticamente. Buono, un mazzo dinosauro secondo me è un problema suonate anche questo, un mazzo dinosauro adesso è ancora un po' più forte e più consistente perché sono a 3 queste qua. Andiamo avanti. Super poliminizzazione passata da 2 a 3. Allora, ovviamente se non sapete cosa fa per una super poliminizzazione, praticamente scarto una carta, evoca tramite fusione un mostro fusione dal tuo extra deck, usando i mostri in qualsiasi campo, quindi tuo o quello dell'avversario, come materiale da fusione. nessun giocatore può attivare carte e risposte a attivazione di questa carta. Quindi gliela fate l'avversario o ve lo fa l'avversario, nessuno può rispondere. Quindi questa carta solitamente nella stramaggioranza dei casi viene utilizzata per togliere mostri molto fastidiosi all'avversario, fondendo mostri che insomma sono molto facili da avere perché hanno dei materiali molto semplici per farli evocare. Ad esempio viene utilizzato il drago, adesso non mi ricordo come si chiama, forse Predaplant si chiama comunque generalmente, non mi ricordo adesso. Comunque è uno dei draghi Predaplant che praticamente saranno solamente due mostri oscurità, quindi siccome l'oscurità comunque è la tipologia di fusione molto semplice, perché si utilizza nella maggior parte dei casi nel gioco, è molto facile pure da fare la maggior parte dei casi. Per quando uscirà magari su Master Duel, non so se uscirà nel prossimo paccone, se uscirà sarà incredibile. Dov'è? Garura, se non lo so si chiama Garura, eccolo qua, deve ancora uscire su Master Duel, però la c'è in TGC. In OGC ancora non c'è. Questa qua richiede due mostri con lo stesso tipo di attributo ma nomi diversi. È talmente generico che distruggerete qualsiasi board con una sola polonializzazione. Secondo me è una carta molto tossica su una polonializzazione, non ha molto senso secondo me, anzi secondo me deve essere pure limitata. Però l'hanno fatta a tre, vedremo cosa succederà in futuro, però già è una carta molto fastidiosa perché non puoi proprio rispondergli. Avessi la possibilità di rispondergli andrebbe pure bene, ma il fatto che non gli puoi neanche rispondere, ed è ovviamente rapida, secondo me è troppo esagerata, è troppo rompiscata di questa carta, è troppo stupida come carta, però l'hanno messa a tre, vedremo come andrà. Andiamo avanti, Divine Wind of Mist Valley, boh secondo me non credo che sarà un problema di alcun tipo. Ah ragazzi, ovviamente vi ho ingrandito lo schermo così lo potete vedere meglio le carte qui. Questa carta dice, una volta per turno se un mostro di tipo vento che controlli viene il torneo della tua mano, puoi evocare specialmente un mostro di tipo vento. d'alto mazzo. Tutto qui. Credo che questa carta venisse utilizzata per un FTK, comunque non credo che ci sarà alcun problema, già non venire andrà utilizzata questa carta, quindi vada a tre, vada a tre. Galatea, Orkust Automaton, devo fare un video di guida sui Orkust. Ci sta a metterla a tre, secondo me se ne giocano già due vanno più che bene, non serve per forza una terza. Anzi, io ne gioco pure una, anche se dovrei giocarne due, per essere più consistente, per avere meno problemi. Però devo dire che ci sta. Gli Orkust comunque purtroppo non dicono moltissimo, per il momento, per quanto sia un mazzo molto bello e molto forte, anche se non top meta. Diciamo che il vero problema al momento sarebbe quello di sbloccare lui da una copia a due o tre copie. Per ora si viene a una copia, comunque c'è modo di tirarlo fuori dal mazzo, però c'è bisogno di Orkust che devono avere per forza un'altra carta, altrimenti un altro tipo di archetipo, soprattutto che sono gli Scrap, oppure i Danger, per poter girare, perché se no non ce la fanno a soli. Comunque, quando poi ci sarà il giorno che questo cavo verrà sbloccato, sarà tanta roba. Galatea 3 non cambia troppissimo, però ci stia, va bene. Spellbook of Judgment, che è una delle carte al tempo dei Dragon Ruler più OP del gioco, perché praticamente ogni volta, cioè dopo che l'attivi, alla fine del tuo turno, per ogni carta che aggiungi una carta Spellbook, una carta Magia Spellbook dal tuo mazzo, dalla tua mano, tranne questa carta, per ogni carta Magia attivata in questo turno, e poi puoi giocare specialmente un mostro di tipo Incantatore, dal tuo mazzo, la cui somma è appunto il numero di carte Magia che ho utilizzato. Ti aggiunge carte alla fine del turno, praticamente, e poi ti evoca eventualmente il nostro Incantatore dal mazzo. È una carta ottima per gli Spellbook, in generale anche per mazzi che possono utilizzare molte magie, soprattutto mazzi con Spellcaster per appunto i Incantatori. Comunque, A3 non credo che sarà un problema, già non faceva chissà cosa, ormai è una carta sorpassata, per quanto crei comunque tantissimo vantaggio, lo fa alla fine del turno. Quindi poi le carte che hai in mano sul momento non puoi neanche effettivamente settarle o attivarle, te le devi tenere in mano fino al tuo prossimo turno, quindi il gioco comunque si è visualizzato abbastanza per non essere un problema questa cosa. Spyro a Quick Fix, da 2 a 3, adaltro questo qua è uno Structure Deck, negli Spellbook, quindi potete anche fare 3 Structure, e ce ne avete 3 di questa carta adesso, perché esse possono giocare 3. Spyro a Quick Fix, Allora, i Spirax possono essere molto molto forti, possono fare board allucinanti, Quick Fix è uno dei problemi maggiori, insieme a Master Plan, Master Plan, a me non si è attaccato, Master Plan, che anche lei è limitata, è la carta magia terreno, degli Spiral, possono fare board allucinanti, onestamente non so se è un'ottima scelta metterlo a 3, ma comunque già 2 era tanto, i Spiral possono essere molto stronzi, ma comunque non sono top meta per il momento, sono veramente un mazzo fortissimo, che se gira, gira da Dio, fa una board di primo turno, senza senso, però, di per sé, vedremo cosa succederà, ecco, se poi lo limiteranno di nuovo, o semiliteranno di nuovo, perché forse a 3 è troppo, però per ora, vediamo cosa combino. Carte che verranno semilimitate, quindi queste qua le limitate le abbiamo finite, semi limitate abbiamo, Fontana Runica, ci sta, Fontana Runica ci sta, a 2 secondo me va bene, a 1 secondo me sarebbe eccessivamente troppo, a 3 forse un po' troppo forte, a 2 secondo me va bene, perché se non la conoscete comunque, attivate le carte Runic, di, come si dice, le carte Magia Runic, dalla mano anche durante il turno dell'avversario, finché non questa che è in campo, e poi, una volta che ne attivate una, potete, potete mettere, fino a 3, carte Magia Rapide Runic, dal cimitero al mazzo, e pescare lo stesso numero di carte, fino a 3, quindi per l'appunto, ad esempio, pescare 3 carte, anche durante il turno dell'avversario, e magari attivare altre, carte Magia Runic, o trovare, magari entra, durante il turno dell'avversario, e cose del genere, è molto forte, si gioca con, c'è la variante purtroppo stun, che magari ne parliamo un po' meglio dopo, però comunque, è il rompicoglione in maniera allucinante, si sposa troppo bene Runic, Runic secondo me è un bel mazzo control, si gioca anche con, con i Runic Sprite, o, io sempre avevo fatto una vecchia guida nell'altro canale, con i Runic, Magico Moschetto, un'altra cosa praticamente, però con Runic Sprite era molto molto forte, però di per sé, devo dire che ci sta a due, semi limitata va bene, è molto forte, ma, e serve molto per far girare il mazzo Runic, altrimenti durante il turno dell'avversario non ce la fate, devo dire comunque che, a due va bene, e mi becco 30 CP, poi, Runic Tip, pure questa, questa qua praticamente ti fa cercare una carta Runic dal mazzo, oppure, evoca specialmente un monstro Runic dall'extra deck, e la mette nella zona Mosty Extra, è sempre forte, può cercare qualsiasi carta Runic, è fortissima, ci sta, per consistenza, ridurla a due, forse a uno pure, potevano ridurla eventualmente, però a due va pure bene, secondo me, è un problema, vedremo cosa succederà ovviamente, anche con i becco alti 30 CP, però, devo dire che, ci sta, me l'aspettavo, ecco, che i Runic mi sono colpiti, soprattutto con la nuova, due list cap, che si è conclusa, c'è stato ad esempio un Cancer Runic stun, imbarazzante, Necroface, Necroface praticamente, con i mazzi, tipo, con le carte Ishizu, o comunque tutti quei mazzi, che riescono a buttare un sacco di carte nel cimitero, e insieme a, Fairy Tail Snow, cosa cerco Snow, eccola qua, che, probabilmente verrà banata, perché se non viene banata sta carta, Master Duel, c'è un bordello con le Ishizu, che già succederà un bordello per tante altre carte, comprese l'Aishizu, praticamente, nella maggior parte dei casi, verrà bandita da questa carta, o da altre carte, e quando viene bandita, ogni, ogni giocatore bandisce le prime cerque carte, del top del mazzo, quindi, magari può bandire anche gli stesso, poi bandisce ancora, è allucinante, a due ci sta, magari anche a uno l'avrei messo, Necroface, perché è molto fastidioso, è molto stupido, però, devo dire che, intanto è un cambiamento a due, se no ci sta, Thunder Dragon Hawk, non è che facciano granché di Thunder Dragon, al massimo vengono utilizzati con le archetipi, tipo, i Branded, nella maggior parte dei casi, oppure Chaos, e roba varia, ci sta che va da due, secondo me va bene, non hanno detto mai chissà cosa, negli ultimi tempi, i Thunder Dragon, sono anche un po' overcreppati, secondo me va bene, Thunder Dragon Hawk a due, però sono cambiamenti, per lo più per me, magari, te lasciano stare, te lasciano stare, super polimerizzazione, che non mi piace, vederla a tre, e spara qui, che potrebbe arrivarsi un problema, per ora, è tutta bella roba, andiamo avanti, carte che verranno limitate, Skill Game passa da due a uno, e sono contentissimo, Master Duel, è un gioco, bio 1, quindi, la partita è quella, si fa, quello che succede, succede, e in un bio 1, le Flat Gate, sono ancora più, cancerogene del solito, perché magari, in un bio 3, puoi, utilizzare il side deck, per cambiare le carte, che ha nel mazzo, e quindi magari, sai che nell'avversario, nella prima partita, gioca le Flat Gate, ti prepari, con uno spolverino, oppure tre Cosmic Cyclone, insomma, con carte, che possono più facilmente, rimuovere queste carte, in un bio 1, è terribile, e sono contentissimo, che schede ne sia uno, per me le Flat Gate, potevo pure bannare, però lasciamo perdere, ma uno va bene, uno è accettabile, nella maggior parte dei casi, non avete più rotture di palle, trovarne una, insomma, non è neanche, cercabile, bene così, Raverie World, 2 a 1, sempre per riguardo, anche questo qua, per appunto, Cancer Runic, c'entrava pure, ma anche altri, altri mazzi, Cancer, stun, Raverie World, questa qua che fa, è sempre una flat gate, che ti dice, ogni giocatore, può controllare un solo tipo di mostro, quindi se avete un incantatore, non poteva avere altri incantatori, oppure, emendate tutti gli altri mostri, che avete già in campo, e al cimitero, oppure se avete, che ne so, dinosauri, poteva avere solo dinosauri, cioè, dovete per forza avere, un tipo diverso di mostro, in campo, ogni volta, non poteva averne più di uno, quindi è una, Flat Gate, molto molto rompicoglioni, va bellissimo a uno, ottimo, goals and match, abbiamo ogni giocatore, può controllare un solo attributo di mostro, stessa cosa, di lavare Warlords, solo che la differenza con questa, è che riguarda gli attributi, quindi ad esempio, se avete, che ne so, mostro oscurità in campo, potete avere solo mostri, oscurità in campo, non potete averne altri, quindi qua ad esempio, se avete solo un incantatore, sono incantatori, questo qua ad esempio, solo oscurità, solo oscurità, eccetera, eccetera, ottimo, sono contentissimo, che stiano colpendo così potentemente, le Flat Gate, a che, se ci hanno messo del tempo, in un AB1, le Flat Gate, come ho detto, sono terribili, sono contentissimo, che ci sia questo cambiamento, questa banlist, a parte alcune cosettine, come Super Poli, per l'appunto, secondo me, è già ottima, ci andiamo ancora, era l'orange light, lui è semplicemente, se l'avete in mano, trovate il tuo avversario, quando il tuo avversario, attiva l'effetto di un mostro, puoi mandare questa carta, un altro mostro, fatta al cimitero, nega l'attivazione, distruggi, quindi è un negate, devo usare due carte però, ma è OP adesso, e per questo sta limitata una, ci sta tanto, perché per l'appunto, le carte di sciso, tipo Aghido, come dire, se ne andate al cimitero, manda le cinque carte, del top del deck, al cimitero, i tuoi due giocatori, oppure, l'altra sempre, che riguarda l'avversario, forse Rakel Beck, ce ne sono quattro, per l'interescenza, Rakel Beck pure, sì, la stessa cosa, sui tu, in comitanza un quest, anche con le altre due, che invece sciaffrono le carte, dal cimitero alla mano, al mazzo, per rompere le scato, soprattutto all'avversario, o per riciclare eventualmente, le carte, ci sta tanto, è un cambiamento, che non mi stupisce affatto, e va benissimo così, non sono state toccate le sciso, a quanto pare, però, almeno questa, Flow Wanderers, and the magnificent map, è la carta magia terreno, dei Flow Wanderers, io onestamente, non capisco, perché i Flow Wanderers, non sono più un mazzo top, è stato già stato colpito, abbastanza, non hanno neanche più, la barriera, la barriera, quella di vento, quindi non possono neanche, bloccare l'evocazione speciale, dell'avversario, onestamente, non capisco, cioè, non credo neanche, che in due le scappe, abbiano fatto granché, quindi io non capisco, perché, se stai limitata, addirittura a uno, a due ci poteva stare, secondo me, comunque, una carta terreno, molto forte, ti permette di, non briccare troppo, con i Flow Wanderers, che purtroppo hanno, come cosa negativa, il potenziale, bel brick, e comunque, anche durante l'attentruttura, l'avversario, se evoca normalmente, l'avversario, puoi attivare, puoi evocare, dalla tua mano, normalmente, fare le tue giocate, con le Wanderers, durante l'attentruttura, l'avversario, sì, lo capisco, però, limitata a uno, secondo me, non ha davvero senso, anche perché, comunque, recentemente, non ha fatto chissà cosa, quindi, io non capisco, perché l'hanno colpita, ancora più forte, vedremo, comunque, spero che la miglioreranno, a due, perlomeno, perché a uno, secondo me, non ha tanto senso, non è che li giochi, particolarmente, i Wanderers, però, vederli così colpiti, e secondo me, non ha neanche senso, perché non è che abbiano fatto, chissà cosa, ultimamente, è un buon mazzo, però, non è neanche un mazzo, top meta, per il momento, ma, vedremo cosa succederà, per ora, danno limitata a uno, l'unico cambiamento, insieme a super polinizazione, che effettivamente, mi fa storcere il naso, è un pochino, spiral quick fix, perché, potrebbe essere troppo, ma chissà, ok, basta, riduciamo un pochettino, qui, così vi faccio vedere tutti i cambiamenti, full changes, eccolo qua, quindi, abbiamo, tre floodgate, limitate, sì, cazzo, sì, questa carta, a uno, va benissimo, per colpa delle scelte, questa, secondo me, non ha senso, queste due carte, se ne limitate, va benissimo, questa carta, come è pure a uno, poteva starci, però, va bene, questa qua, come è pure a uno, poteva andarci, però, poco a poco, eventualmente, se servirà, un upgrade, ai thunder dragon, va bene, e poi, vediamo, le limitazioni, a parte la super poli, che se non è una carta tossica, troppo stronza, non ha davvero senso, altergeist, va bene, gli altri castori, che dicono, granché adesso, quindi, se non me non diranno granché neanche, con altergeist a tre, però almeno sono più giocabili, i dinosauri migliorano, decisamente, quindi, bene così, questa carta, non la giocavano manco prima, Galatea a tre, ci sta, però, già a due, se non me andava bene, non c'era bisogno di forse una terza, però, va bene, spero già andrò a tre, carta sempre forte, però, per la questione, per appunto, di mettere le carte alla fine del turno, non è particolarmente impattante, ora che il gioco è molto più veloce, quindi, ci sta pure a tre, e Sparaquickfix, si vedrà, se usciranno altre porcate molto forti, per gli Sparer, già a due era ottimo, già a due andava bene, a tre, dall'altro, come dovete vedere, in TGC, TGC è limitata a uno, vedremo cosa succederà, comunque, per ora, devo dire che sostanzialmente, è un'ottima banlist, soprattutto perché colpisce, poi potentemente, quelle floodgate bastarde, e anche altre carte, personalmente, l'unica cosa in cui non sono d'accordo, sono super poli a tre, per me potesse pure a uno, e poi, la mappa, poteva rimanere a due, non vedo, non vedo il senso di metterla a uno, non capisco davvero, anche perché i profonderi, sono creato problemi minimamente, ultimamente, comunque, questa qua è tutta la banlist, vi ricordo, per l'appunto, che tenendo sopra, il 9 aprile, ci sarà il cambiamento, dal, non dà state le carte adesso, in caso ne abbiate di più, come ad esempio, io ho detto che mi prenderò, un, un, un 30 cp di questa carta, o di questa carta, or, perché ne ho tre, tre, non dà statele, adesso, aspettate il 9, arriva la banlist, e avete tempo, da stare queste carte, per il loro valore totale, quindi, aspettate eventualmente, poi, anche tutte le altre carte, eventualmente, se ce l'avete, questo qua sarà il cambiamento, poi, in quel periodo, uscirà anche, il nuovo pack, che cambierà, completamente tutto il meta, e, io temo che diventerà, praticamente, monotematico, e speriamo che poi, eventualmente, ci sarà una banlist, veloce, da parte di Konami, però, si vedrà, magari ci sarà un'altra piccola banlist, pre uscita del pacco, dei tira element, per ridurre un pochettino i danni, non lo so, magari, ragazzi, stiamo facendo un po' troppo casino, però, tira element hanno fatto, un macello, in OGC, in TGC, è praticamente, tier 0, letteralmente, non si giocava altro, e anche se giocavi altro, non potevi competere, nella maggior parte dei casi, quindi, vedremo cosa succederà, comunque sia, questo è tutto per questa banlist, io vi ringrazio molto per l'attenzione, noi ci vediamo al prossimo video, di Yu-Gi-Oh! e Master Duel, grazie mille.